Buonasera a tutti quelli che ci ascoltano in diretta e tutti quelli che ci ascolteranno in differita, ascolteranno questa registrazione. Inizio vogliono presentarmi, io mi chiamo Enzo De Pustis e faccio il direttore del Centro Milanesi di Terapia della Famiglia. Con me stasera c'è Maria Ganeo che è la nostra responsabile della comunicazione e un collega nonché didatta del Centro Milanese e siamo amici da tanti anni, Beppe Pasini. Beppe Pasini ha una biografia molto eterogenea, insegna all'Università di Brescia, insegna al Centro Milanesi di Terapia della Famiglia e stasera ci presenta una sua creatura, una delle ultime creature che ci ha messo in stampa, che è un libro, Rianimatori di Memoria. Io non aggiungerei tanto, però è bello il titolo, Rianimare la Memoria. Come si fa a rianimare la memoria? Quanto è importante rianimare la memoria? Che c'entra la rianimazione della memoria è con noi che facciamo un lavoro come psicologi e così. Insomma, avrei tante domande da farti ma mi fermo solamente per dire che il libro è bello, è scritto e vale le ore che si possono trascorrere in compagnia dei racconti e degli esempi che Beppe propone nel suo scritto. Grazie. Grazie Enzo. Buongiorno a tutti e a tutte. Posso iniziare con una poesia? Mi sembra il modo migliore per rianimare. È di una scrittrice che amo molto, si chiama Chandra Livia Candiani, e presa da questa raccolta, si chiama La Bambina Pugile, ovvero la precisione dell'amore. Amo il bianco tra le parole, il loro margine ardente. Amo quando taci e quando riprendi a parlare. Amo la parola che spunta solitaria sullo specchio buio del vocabolario e quando sborda, va alla deriva, con deciso smarrimento. Quando si oscura e quando si spezza, si fa ombra. Quando veste il mondo. Quando lo rivela. Quando fa mappa. Quando fa destino. Amo quando è imminente. Quando si schianta. Quando è straniera. Quando straniera sono io, nella sua ipotetica terra. Amo quello che resta, dopo la parola detta e non detta. E quando è proibita e pronunciata lo stesso. Quando si cerca e si vela. Quando si sposa. E quando è realtà di muri, limite che incaglia al suolo. Quando scorre candida e corre per prima a bere. E quando preme alla gola. Spingerla aperto. Quando è presa a prestito. Quando mi impresta al discorso dell'altro. quando mi abbandona. Ecco, sono le parole belle di questa scrittrice che amo molto e che secondo me è un bel esempio di rianimazione. La poesia, la scrittura poetica ci rianima e attiva in noi sensazioni, impressioni, emozioni. Allora, mi fa molto piacere dire due cose su questo libro che ho scritto di recente che si intitola appunto rianimatori di memorie e sottotitolo è scrivere di sé con gli altri un manuale per guide temerarie. Ecco, che nasce per diverse ragioni. Ecco, direi la prima prima ragione per cui ho scritto questo libro era perché da tanti anni mi occupo di animare esperienze di scrittura in gruppo in cui invito le persone a scrivere e raccontare di sé della loro vita e dopo tanti anni di esperienza che ho fatto in diversissimi contesti come ad esempio non so, accente di salute mentale, carcere, il fine vita, la disabilità, le esperienze di migrazione forzata, di sopravvissuti a esperienze apicali, ma anche le biblioteche, centri culturali, le cooperative sociali. Ecco, ho sentito proprio l'esigenza di trovare una cornice di senso che potesse mettere insieme un po' queste diverse esperienze accomunate tutte quante dall'esperienza della scrittura. Secondo motivo per cui è nato questo libro qua è quello forse un po' poco modestamente, come è scritto anche o non nel titolo, di offrire un manuale. Io sono sempre stato un po' allergico in realtà ai manuali. Ricordo un manuale della scuola Radio Elettra che il mio babbo aveva comprato per fascicoli quando ero bambino e di cui andava molto fiero, no? E dentro c'era tutta una serie di procedure, di indicazioni, di informazioni su come montare le radio, smontarle, su come aggiustarle. Ecco, così come tutti i manuali, insomma, illudeva della convinzione. Boh, forse non era un'illusione, era una certezza, non so. Insomma, ecco, comunicava la convinzione e la certezza che tutto quanto fosse realizzabile attraverso delle procedure di passaggi molto chiari, conseguenziali per arrivare a uno scopo. Allora, io sono sempre stato un po' allergico a questo tipo di procedure, ma mi è piaciuto dare all'idea della procedure, del si fa così, ecco. Allora, però, ecco, la parola manuale l'ho intesa un po' etimologicamente, cioè da tenere in mano. Per cui mi piacerebbe molto che chi vuole cimentarsi come rianimatore di memorie, ecco, provi a tenere un po' in mano questo libro e magari ad ispirarsi nella propria esperienza. Perché questo libro si rivolge soprattutto, diciamo così, a un target ampio che è il professionista della cura, della relazione sociale, della relazione d'aiuto, che a diverso titolo si occupano di animare esperienze di gruppo, di condurre gruppi, di animare gruppi in contesti sia della cura che della terapia, che dell'esperienza culturale, come ad esempio appunto nelle biblioteche, nei centri culturali, ecco. E quindi vorrebbe offrire un po' degli spunti, non tanto, diciamo così, ecco, una procedura stabilita, diciamo così, una scuola radioelettra della conduzione del gruppo, ecco, piuttosto ecco, degli stimoli per allestire dispositivi narrativi, è un po' questo, ciò che accomuna questa esperienza, rivolti a gruppi di persone interessate a scrivere di sé e della propria vita. E dicevo, ecco, un altro, un ulteriore motivo, un terzo direi motivo che ha stimolato la scrittura di questo libro, è una mia esigenza, diciamo così, quella di intrecciare ciò che faccio con la mia vita, con la mia biografia, che è un po' diventata negli anni, diciamo, un po' anche la mia cifra stilistica, il mio modo di fare formazione e il mio modo anche di fare didattica in tanti contesti, ad esempio il centro milanese, cioè nel tentativo di intrecciare ciò che siamo, ciò che abbiamo imparato, la nostra esperienza, il nostro modo di imparare la nostra sensibilità con il nostro lavoro, attingendovi a piene mani. L'intento, poi in qualche modo, di questo tipo di approcci, se vogliamo, che la letteratura chiama biograficamente fondati, è proprio quello di coniugare appunto la propria, la nostra esperienza, ovviamente tutti quanti noi abbiamo un'esperienza che, se vogliamo, la risorsa più grande della nostra vita, ma anche il limite maggiore, ecco, intrecciare la nostra esperienza per farne, in questo caso, uno stile relazionale, un modo di prendersi cura delle persone, anche in un approccio terapeutico, alla ricerca di un modo bello di stare in terapia, o nella relazione d'aiuto, o nell'intervento formativo, alla ricerca di un modo bello di fare il proprio lavoro, mettiamola così. Ecco, questi qui sono un po' alcuni, prego, sì, ecco, fermami pure Enzo, che se no io sono un chiacchierone, vado un po' a rane. Qualche domanda? E ne approfitto anche per invitare i colleghi che sono connessi, eccetera, a fare altrettanto, ecco, perché così la conversazione diventa più interattiva, più interessante. Tu dici, è un manuale, quindi come nei manuali ci sono anche delle indicazioni a volte si trovano, no? Ecco, la domanda che mi viene da fare è, quali sono i contesti, le gornici dove secondo te è stato più semplice rianimare la memoria, e dove invece hai incontrato difficoltà? O sincoci potrebbero incontrare difficoltà? Allora, nel tempo mi sono reso conto che era in qualche modo opportuno, se vogliamo anche un po' necessario darsi un metodo di lavoro, no? Perché chiaramente, così come dicevamo, per l'esperienza è vero anche per la memoria, tutti noi abbiamo una memoria, abbiamo dei ricordi, quindi è molto facile accedere ai ricordi delle persone. Con tutto possiamo fare memoria, no? Con una crepa nel muro, con una scarpa, con un'ombra, con una sensazione. La questione, se vogliamo, era, ecco, che cosa farne poi, ecco, delle storie che emergono, come prendersene cura, che tipo di contesti allestire, anche con quali scopi, con quali obiettivi, per quali destinatari, ecco. Diciamo che, per arrivare un po' alla tua domanda, ecco, le persone che partecipano a questo tipo di esperienze sono sostanzialmente di diverse tipologie. Una prima tipologia sono persone, gruppi di persone che attraversano situazioni di criticità, no? Una malattia, un lutto, un momento critico della propria esistenza, difficile, che quindi sono accomunate un po' da una dimensione di criticità. Un'altra tipologia sono persone che sono indicativamente curiose, interessate di fare un'esperienza di scrittura che magari praticano già la scrittura autobiografica, la scrittura di sé, la scrittura poetica, un po' come in esordio, ecco, che amano scrivere, ma che magari non hanno mai sperimentato un'esperienza di questo tipo in gruppo, che è molto diverso, ovviamente, che scrivere da soli. Una terza tipologia di partecipanti a questo tipo di esperienze sono gli operatori sociali, ad esempio terapeuti, psicologi, come dire, esperti della relazione di cura, eccetera, che sono interessati a apprendere metodologie di conduzione di gruppi, rivolte soprattutto a gruppi di persone, attraverso la pratica e la proposta della scrittura della propria vita. E quindi sono presenti, partecipano a questo tipo di esperienze con un intento soprattutto di apprendimento. Ecco, dicevo che negli anni questo mi ha un po' invitato a mettere a fuoco, diciamo così, una metodologia, cioè dei passaggi di cui poi parlo nel libro, ecco, che presento nel libro, dei passaggi che ritualmente si ripropongono nell'esperienza e dell'animazione di dispositivi narrativi, non necessariamente con la stessa sequenza, ma che sono come degli ingredienti, dei buoni ingredienti che nel tempo sento che mi hanno aiutato e tuttora mi aiutano, insomma, ecco, sono di stimolo, fanno un po' da cornice nella conduzione di esperienze di questo tipo, che tematizzo e che espongo poi anche nel libro motivandone anche la proposta, la successione, il significato, che ho chiamato 5 movimenti più 1 e sostanzialmente li riassumo molto brevemente. C'è un primo movimento che è un esordio poetico, spesso gli incontri vengono introdotti con una breve lettura poetica o letteraria sull'argomento, sul tema di cui ci si sta occupando e poi c'è un momento di scrittura in cui le persone vengono invitate a scrivere. Le persone partecipano a questo tipo di esperienze sapendolo già prima, ecco, non è un'imboscata, per cui le persone arrivano e non sanno che cosa si sta facendo. Ecco, una buona pratica, un buon accorgimento che ha dotato in questi anni quello di informare in modo molto dettagliato le persone che si tratterà di un'esperienza in cui verrà proposto, saranno invitate, perché ovviamente si tratta di questo, di inviti, di proposte, no? Nessuno obbliga a nessuno. Però è bene che le persone sappiano che uno di questi inviti consisterà in una proposta di scrittura. Ora, tutti quanti noi ovviamente sappiamo scrivere. Ecco, ci tengo a dire e a chiarire in questo tipo di esperienze che non è una palestra per scrittori, non è una scuola per imparare a scrivere. Tutti quanti scrivono come lo ritengono opportuno, con le parole che vogliono, con il proprio stile, con la quantità che desiderano. Quindi una, quindici, centocinquanta parole. Ecco, è assolutamente libero, ecco, come possibilità. E poi, quindi, c'è un momento di scrittura in cui li scriviamo insieme. Quindi c'è un momento molto bello, anche dal punto di vista fisico. Mi piace molto questo momento qui, perché ovviamente anche i corpi si inchinano verso il foglio. Più delle volte si tratta di un foglio, a volte si tratta di una tastiera del PC. E sembra quasi che le vite di ognuno, mi piace pensarla così, si adagino sul foglio, sui quaderni, no? Sugli schermi dei PC. Ecco. E i mondi interiori di ognuno, i racconti, le storie, le brevi rievocazioni, perché si tratta sostanzialmente, ecco, di tempi anche abbastanza limitati, 20 minuti. Ecco, do all'interno di questo tipo di esperienze, detto un po' anche i tempi, perché ho visto che avere un tempo sufficientemente circoscritto aiuta le persone a organizzare la stesura dello scritto, della scrittura. Ecco. E dopodiché c'è un momento, ci sono due livelli di riflessione, ecco, in cui invito le persone a rileggere, a sì, a ripensare, ma soprattutto a rileggere silenziosamente ciò che hanno scritto e a porsi delle domande del tipo, ecco, perché ho rievocato questo momento della mia vita, che significato ha per me, che emozioni mi trasmette, cosa mi fa sentire, cosa mi fa provare. Ecco, domande e stimolo di questo tipo qua e un passaggio successivo in cui le persone sono invitate a condividere ciò che hanno scritto. Anche questo è un momento molto bello, anche molto intenso, spesso molto emozionante, dipendentemente un po' dagli argomenti, ma diciamo che ogni argomento è intenso perché attinge profondamente, noi che facciamo questo mestiere, lo sappiamo, alla vita delle persone. Ecco, non si tratta tanto della vita in generale, ma della vita viva e concreta delle persone, per cui a volte si parla del, non so, con gruppi di insegnanti, si parla ad esempio di quella volta che ho imparato o di un insegnante indimenticabile della mia vita o di un insegnante che ha lasciato il segno. Per, non so, assumiamo in mente tanti esempi, per persone ad esempio che hanno vissuto situazioni di migrazione forzata, la proposta potrebbe essere, come è stato anche in diverse occasioni, quella di rievocare la casa dove si è nati. È chiaro che una domanda, una sollecitazione di questo tipo fatta a un gruppo di persone, che ne so, che sono utenti di una biblioteca a un significato, fatta invece a un gruppo di persone che hanno vissuto, stanno vivendo un'esperienza dolorosa, drammatica, di migrazione forzata, ovviamente ha un'altra implicazione. Quindi vuol dire anche riprendere contatto con delle memorie dolorose, difficili, complesse. Ecco, e quindi in questo senso darsi un metodo mi ha aiutato, ritengo che aiuti comunque in generale chi si addentra, ecco perché il sottotitolo è le guide temerarie, chi si addentra in modo un po' temerario nella vita delle persone, debba avere un'idea di come uscirne vivi, possibilmente vivi, ma anzi magari con una stimolo, con un'emozione, con una bellezza in più di quando si è entrato, insomma, ecco. E poi c'è un momento di pratica filosofica, dopo questi momenti, questi passaggi di scrittura e di riflessione, c'è un momento di pratica filosofica in cui appoggiamo le biro, se abbiamo le biro o mettiamo da parte le tastiere e condividiamo idee. Anche qui, questo momento qui è animato dal conduttore con una domanda iniziale, potrebbe essere una domanda che aiuta a pensare insieme, ad esempio se si parla di apprendimento, la domanda potrebbe essere ecco, in base a quello che abbiamo scritto e raccontato, cosa vuol dire imparare? Oppure può essere una domanda o delle riflessioni relative all'esperienza della scrittura stessa, ad esempio, che cosa sentiamo che impariamo quando scriviamo di noi? Oppure ancora se si parla dei sensi del ricordare, del raccontare, quali sensi sollecita? Possiamo chiederci ecco la scrittura di sé, ecco, oltre a quelli noti, tatto, vista, gusto, olfatto, udito, e vengono fuori delle riflessioni molto belle, delle condivisioni molto belle, una sorta di mente collettiva, potremmo dire, no? Oppure anche evocando un'immagine che mi piace molto di Daniel Stern, che è un neuroscienziato che cito nel libro, di menti che si accarezzano, ecco, nel quale c'è proprio una festa delle idee. L'idea è proprio quella, lo stimolo, l'animatore, come dire, sollecita la conversazione a più voci, arricchendo appunto le diverse prospettive, i diversi punti di vista. Per poi concludere con un momento anche qui, io poetante, in cui invito le persone a un momento di scrittura poetica con la quale ci lasciamo e con la voglia di ritornare. Arrivederci. Ecco, per rifarmi un po' la tua sollecitazione, Enzo, è chiaro che io osservo un ricordo unico, originale, come del resto accade quando ne incontriamo gruppi familiari, noi in terapia specifico, originale, ogni gruppo, ogni gruppo di persone è assolutamente unico, significativo, per alcuni versi indimenticabile. Adesso me ne viene in mente uno di recente che ho condotto in un contesto molto complesso, articolato, difficile, di uomini maltrattanti. È stata un'esperienza che abbiamo fatto con dei gruppi di uomini autori di reati, di maltrattamento, di violenze domestiche, che partecipavano a questa esperienza di rielaborazione del reato in una condizione coatta o semicoatta, come li abbiamo chiamati spintaneamente, una presenza spintanea. E quindi chiaramente la complessità lì si è acuita particolarmente, non si trattava di persone che chiedevano di partecipare a un'esperienza, ma che venivano ob torto collo, spesso un po' quasi semi o caldamente invitati a parteciparvi dall'ufficio di esecuzione penale esterna del tribunale. E lì la bella scommessa, sulla quale poi abbiamo ragionato, come ho anche scritto con la mia collega, perché l'abbiamo condotta in coppia. Oltretutto una presenza femminile in un gruppo di maschi, autori di maltrattamento ha avuto delle implicazioni simboliche ulteriori non da poco, intuibili ma non per niente scontate. Dicevo, la bella scommessa lì è stata provare a trasformare una presenza appunto forzata, non del tutto spontanea, anzi per alcuni per niente, invece in una relazione più collaborativa, cosa non per niente semplice, perché già il fatto di chiamarsi uomini maltrattanti implicava una certa stigmatizzazione, quindi molti di loro non condividevano per niente l'iter giudiziario che li aveva disegnati in quel modo, per cui le parole contavano. Insomma abbiamo fatto un lavoro interessante, secondo me anche molto stimolante, anche attraverso dei mediatori simbolici, uno di questi è stato quello di utilizzare, di riferirci alle mani. Quindi si parlava di uomini maltrattanti e quindi le mani sono diventate l'ingaggio narrativo per rievocare quella volta che ho alzato le mani. Ecco, e allora noi abbiamo chiesto a questi partecipanti a un certo punto, quando abbiamo capito che c'era un'atmosfera sufficientemente partecipativa, un po' meno forzata e un po' meno ingessata, quando l'atmosfera cioè si è un po' sciolta, ecco eccetera, più o meno mi sembra il terzo incontro, abbiamo chiesto a loro di rievocare quella volta che hanno alzato le mani. Ovviamente l'invito era quello di ricordare il momento in cui avevano aggredito la loro compagna, la loro moglie, la donna che c'era a volte, le figlie, insomma, ecco, e quindi invitandoli attraverso la scrittura a rievocare quel momento difficile, doloroso, drammatico della loro vita, per poi chiedersi alla fine della scrittura, avrei potuto agire diversamente. Ecco, quindi le abbiamo invitati, non soltanto il senso un po' di questo tipo di esperienza, non è soltanto quello di raccontare storie, che è una cosa meravigliosa, che ci piace, che ci affascina tanto, ma la domanda è che cosa ne fai delle storie che vengono raccontate e scritte una volta che nascono, che vengono al mondo. Allora il passaggio, in quel caso lì, ha consistito nel tornare sull'evento, sul fatto, per sviluppare, per promuovere una riflessività, una, se vogliamo, una responsabilità pensosa rispetto a quello che era accaduto. E' nato interessante neologismo e quel gruppo è diventato il gruppo degli uomini manutrattanti, che trattano cioè con le mani e si è concluso, ad esempio, con un lavoro poetico che abbiamo fatto sulle cose meravigliose che possiamo fare con le nostre mani. Quindi non soltanto le cose dolorose, minacciose, aggressive, ma ad esempio possiamo accarezzare, accudire, salutare, possiamo stringere le mani, possiamo salutarci, possiamo farci solletico, possiamo giocare. Ecco, no? Chiaramente tutto questo ha delle implicazioni molto interessanti, importanti anche dal punto di vista emotivo, sulle storie che noi abbiamo sentito, abbiamo detto, ecco. Tra l'altro ne approfitto per sponsorizzarti a un abile paginame, perché tu come con le ami e con le mani produci anche dei bei oggetti di legno, ecco, c'è questo processo di... E' vero, è vero, amo molto lavorare in legno. Quindi, però, mi piace molto, ecco, questa, perché tu hai evocato, uno è la temerarietà, no? E' da temerari, ecco. E' da temerari, può essere da temerari, ma ha una valenza terapeutica, rianimare una memoria traumatica, ecco, rianimare una memoria dove, come dire, tra una vittima e un'aggressione c'è stata un'aggressione, no? Perché noi sappiamo quello che ci dicono le neuroscienze, ecco, da anni esterne, che parla di sé narrativo, no? Cioè, lui è uno che introduce questo concetto qui, in cui dice, per esempio, che quando emerge questo sé, no? Inizia un racconto, no? Però le neuroscienze ci dicono anche quanto la memoria è fallace, è incannevole, no? È un processo di ricostruzione continuo, no? Per se vediamo, ad esempio, noi in questi, ieri, credo che quattro anni fa eravamo in zona rossa, no? Se era la seconda volta, la seconda volta siamo entrati in zona rossa, no? Io non, come dire, ce la siamo dimenticati, no? È stato un evento così importante che abbiamo vissuto. Proprio oggi, Enzo? Sì, 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 ieri era la seconda volta che entravamo in zona rossa, di nuovo tutti a casa, Lombardia, eccetera. Ecco, io mi ricordo però che in quel periodo tu hai attivato dei laboratori di scrittura via computer, eccetera, proprio per, come dire, sostenere, supportare le persone anche, diciamo, in modo collettivo, in modo generoso, perché era un'attività, come dire, filantropica la tua, di grande generosità, di attivare la memoria, cioè di attivare i racconti, attivare la scrittura di quello che stava accadendo. Sì, sì, fu un'esperienza bella, molto emozionante. Beh, eravamo in un contesto di assedio, di fatto, no? Di assedio, per cui le persone implodevano, no? Nella loro quotidianità. Fu un momento ovviamente straordinario che tutti quanti noi ricordiamo, no? Allora lì venne un po' fuori l'idea di fare una staffetta del covid, della pandemia, l'abbiamo chiamato così. E per cui è successa questa cosa che io invitai all'inizio due o tre amici, tra cui Walter Troielli, ad esempio, a scrivere un momento di cura, di bellezza, vissuta durante i giorni della pandemia, durante quei giorni lì. E bellezza non significava soltanto robe positive, ma, come dire, anche situazioni di criticità e tutta la cornice ovviamente che c'era intorno era una cornice di criticità e drammatica, nella quale, nonostante la drammaticità e la criticità, si viveva un frammento di speranza, di bellezza, di cura. E così venne fuori un gioco molto bello in cui chi scriveva una pagina di diario poi nominava un'altra persona invitandola a continuare. E venne fuori un diario scritto a più mani, più di 70 persone, che composero, diciamo così, un racconto a più mani, a più voci, a più sensi, a più cuori di quell'esperienza, raccontando la loro quotidianità, un frammento di bellezza nonostante quello che stava accadendo. E poi facciamo un incontro finale online in cui Walter suonò la chitarra e noi, chi lo voleva, chi lo desiderava, ecco, condividemmo i nostri scritti. Ci fu addirittura un PDF che poi raccolse gli scritti di tutti e ce lo regalamo. Ecco, sensi, insomma, ecco, che ci aiutò ad affrontare quel momento critico. Venne fuori, tra l'altro, poi, come spesso accade, diceva anche una grande scrittrice di esperienza come Alda Merini, diceva che in nessun posto come nel manicomio aveva amato. No, paradossalmente, da genio qual era, l'era riuscita a trasformare una condizione di afflizione, di sofferenza, di dramma, in tutti i sensi, come la vita al Paolo Pini, ecco, in un'occasione di ispirazione poetica. Venne fuori in quella esperienza lì, in quel momento lì della pandemia, che tantissime persone coltivavano esperienze estetiche. Per cui c'era gente che dipingeva, che scriveva, che scolpiva il legno, come nel mio caso, insomma, ecco. In effetti ci dicemmo che l'esperienza estetica, usare le mani per produrre qualcosa di bello, è una straordinaria esperienza di resilienza e di resistenza. Per cui venner fuori diverse altre esperienze di laboratori di scrittura, me ne ricordo una molto bella, che fu molto coinvolgente, intitolata Lettere d'amore da una città sotto assedio, ispirata all'Iliadeti e Omero, alla vicenda della città di Troia, in cui le persone che vi partecipavano, una quindicina circa, scrivevano delle lettere a delle persone amate, sia viventi che non viventi, morte, raccontando la loro vita, chiedendo a loro volta, insomma, dialogando con le persone amate. Ecco, Lettere d'amore da una città sotto assedio, che era evidentemente in riferimento alla situazione che stavamo vivendo. Ecco, questo per dire che la scrittura, l'esperienza della scrittura e dello scrivere di sé e del proprio rapporto col mondo è un'esperienza di cura, un'esperienza attraverso la quale creiamo senso, costruiamo senso, diamo significato, anche se si tratta di una versione ovviamente sempre parziale e momentanea. Sono assolutamente d'accordo quando dicevi Enzo che la memoria è fallace. Allora una delle regole, regole comunque delle condizioni che propongo nei laboratori è questa, è quella di fregatemi della verità. Uso un po' questa formula qua, nel senso di riconosciamo che la nostra versione, per quanto dettagliata, precisa, circostanziata, è sempre una versione possibile e quindi non coincide mai oggettivamente, ammesso che ci possa essere una versione con così come si sono svolti i fatti. Abbiamo sempre a che fare con un effetto Rashomon, come diceva anche Luigi, Luigi Boscolo, cioè evocando quella storia molto bella raccontata da Akira Kurosawa in un film meraviglioso, che appunto si intitolava così, Rashomon, in cui si raccontava la storia di un matrimonio e di un corteo matrimoniale che veniva assaltato dai briganti in mezzo al bosco. E tutto il film poi documentava il racconto di chi aveva subito quell'assalto da prospettive assolutamente diverse, tale per cui uno si chiedeva ma parliamo dello stesso evento, dello stesso fatto, moltiplicando i punti di vista, i racconti, le opinioni, i vissuti, esattamente come quello che ci accade quando incontriamo una famiglia, una coppia, quando ci occupiamo delle storie delle persone in terapia, insomma abbiamo sempre a che fare con versioni diverse, io credo che questa sia una straordinaria possibilità, una grande, grandissima risorsa, ecco, per cui nei laboratori evidenzio questo aspetto, un'altra regola che noi seguiamo è quella della libertà narrativa, ognuno può scrivere quello che ritiene di poter scrivere e che si sente di poter scrivere, o che ritiene opportuno scrivere perché a volte non è opportuno scrivere altri. Quindi una volta che sei sollevato dalla versione vera, allora ti puoi divertire a esplorare le tante versioni possibili di quel racconto lì, di quella storia lì. Ecco, un ulteriore vincolo che propongo è quello del primato ermeneutico, cioè che lo scrittore, l'autore del testo è dell'esperto. Non c'è mai un momento in cui l'animatore o altri componenti del gruppo dicono ah hai scritto questo perché volevi dire questa cosa qui, no? Che è bloccante, lo sappiamo, no? Mentre invece si ribadisce come fondamentale che è proprio l'autore, sono io che scrivo che do senso a ciò che ho scritto. Ecco, quindi sono io il titolare della mia scrittura, insomma. Questo vuol dire anche sollevare, sollevarsi dal giudizio, dal giudizio morale, intendo dire quello che i greci chiamavano ipoké, no? Sollevarsi dal giudizio, dalla valutazione. Ecco, in questo senso. E vedo che questo aiuta molto le persone anche a praticare una libertà narrativa, a godersi il paesaggio, a fare un'esperienza di piacevolezza anche se i temi, se gli argomenti a volte sono drammatici, difficili, complessi. Io mi ricordo diversi laboratori che ho tenuto in carcere. Ecco, per cui sappiamo bene che lavorare nelle istituzioni totali, come ad esempio negli ospedali psichiatrici, nelle comunità d'altra protezione, così anche con i detenuti, ha ovviamente delle implicazioni che ribaltano assolutamente una proposta di scrittura che potrebbe invece avvenire al di fuori di quel contesto lì. Insomma, ecco, dicevamo prima per la casa dove si era nati, ugualmente per quanto riguarda, ecco, le esperienze, non so, della detenzione, della carcerazione, in temi della libertà, ad esempio, no? Un'esperienza molto bella che facciamo in un carcere vicino a Brescia, che si chiama Verziano, che è il paese di Verziano, e ragionare sul tema della libertà, constatando quante occasioni o quante condizioni di prigionia ci fossero nella vita ordinaria e quante condizioni di libertà ci fossero nella vita in carcere, giocando un po' a ribaltare i mondi e poi sperimentando a un certo punto un gioco poetico in cui proviamo a fare un elenco di parole che avremmo voluto liberare da quella situazione, da quel contesto lì. Mi ricordo che le scrivemmo su dei foglietti, le piegamo e poi le facciamo passare attraverso le sbarre della finestra per delle evasioni semantiche. Grazie, Beppe. Io sottolineerei, tra le parole che tu utilizzi, ecco, per descrivere queste esperienze, due parole. Una è la dimensione estetica, no? Che in un certo qual modo traspare quando dici godiamoci il paesaggio, ecco. E quindi, cioè, godersi il paesaggio del seno, del sé che si racconta, no? Che è straordinariamente estetico e straordinariamente bezoniano, no? Perché, ecco, sempre più anche come CMTF, eccetera, c'è stata questa riflessione sull'estetica della terapia. E poi c'è un'altra dimensione, diciamo, che si raccoglie da queste due ultime, come dire, parole, ma anche da un passaggio che faccio prima, che è la dimensione etica. Ecco, la dimensione etica quando dici, dice, il vero esperto del racconto è chi lo scrive, no? Il racconto. E quindi, se questo mi fa pensare anche a una grande scrittura che noi compiamo tutti i giorni senza scrivere, no? La facciamo di notte con i sogni, no? E di quanto molto spesso si sia inteso, almeno una parte della psicologia, che, come dire, si va dallo psicologo perché è quello che poi dice, dottore, mi spiega che cosa sono questi sogni qui, ecco, io ho sognato questa questa faccenda qui, eccetera. E quindi c'è sempre questa questa dimensione, secondo alcuni, e poi è anche, secondo me, una mimesi di una cattiva lettura che si è data anche della psicanalisi, dell'interpretare, no? Dell'interpretare, non sai? E quindi questa dimensione invece bellissima che tu descrivi, in cui non c'è interpretazione, no? Cioè, diciamo che l'interpretazione eventualmente lo fa il sognatore. Certo, certo. Perché contribuisce, contribuisce, dà senso e riorganizza il senso. Eh, certo, sì. Anche perché questo credo che sia una straordinaria occasione di apprendimento, no? Se lo do io l'interpretazione che imparo, no? E quindi credo che anche a proposito di etica, in questo senso sia cruciale, ecco, sia cruciale riattribuire, dare valore al narratore in quanto esperto della sua narrazione. Allora, quando noi diciamo la famiglia è competente, la famiglia esperta, quella coppia è esperta, anche se è sgarruppata, sfigata, scalcagnata, se è patologica, è esperta di quello. E quindi credo che l'intento interessante, adesso per quanto riguarda i laboratori di scrittura, ma anche nella relazione terapeutica, sia proprio quello di riconoscere che hai a che fare con un sistema esperto, che ha una sua saggezza. Allora, il gioco meraviglioso, secondo me, è di, se ci si riesce, capire in che senso quel sistema è saggio, no? Dal suo punto di vista, in che senso ciò che hanno messo insieme, no? Queste persone, una coppia, una famiglia, eccetera, ha senso nelle interazioni che regolano i loro rapporti. E allora, in questo caso, allora, come dire, l'autore del testo, che può essere anche il portatore della storia e l'esperto della sua storia. Se un cliente, un paziente, mi racconta un suo sogno in terapia, è un invito a nozze per me. E quindi il lavoro che noi facciamo, credo che lo condividiamo per alcuni versi, ecco, questo tipo di approccio, è quello di celebrare la competenza, l'esperienza di chi racconta quel sogno lì. Per cui, ad esempio, non so, chiediamo alla persona e che significato sente che ha questo sogno che ha fatto? Che cosa sente che le dice? Le andrebbe di disegnarmelo, no? O di disegnarmi l'emozione che ha provato sognandola. Sente che le dice qualcosa sulla sua vita, sul suo passato o sul suo futuro. E quindi le persone diventano degli esperti di divinazione attraverso i propri sogni. O addirittura si può proporre anche di scrivere. Una cosa che faccio quando capita, quando c'è l'occasione, è quello di, in terapia, di invitare le persone a scrivere. Ho fatto una seduta ieri molto bella con due genitori che vorrebbero diventare genitori adottivi, ma lui ha tradito lei. E lei dice ma io come faccio adesso a, no? Come facciamo a adottare un bambino se lui mi tradisce? E qui succede un casino. Oltretutto una coppia non giovanissima, no? Lui 50, lei 46. Per cui la prospettiva, se diventano genitori adottivi, è quella di avere un bambino, non un neonato sicuramente, no? Quindi almeno un ragazzino 9-10 anni, perché c'è il rispetto della distanza anagrafica. E per cui la prospettiva è quella di un'avventura complicata. Quindi lei diceva, ma caspita, ma se lui appunto mi tradisce, come facciamo a intraprendere questo progetto? Insomma, per cui si ragionava del loro progetto, del loro futuro, di futuri genitori adottivi. Per cui a un certo punto ho proposto loro di scriversi una lettera. Si chiamano lui Filippo e lei Antonella, no? Caro Filippo, se diventerai padre, cosa vorresti dire? Cosa vorresti scrivergli, no? Cosa senti di consigliargli? Se hai dei consigli, no? A questo futuro padre che vorresti diventare. E così anche lei, cara Antonella, se diventerai madre. Poi ci siamo letti le lettere che hanno scritto e ci abbiamo ragionato insieme. E il loro futuro è stato presentificato nelle loro scritture, nelle lettere che hanno scritto. Ecco, questo è un piccolo esempio di quello che accade a volte in terapia, quando ad esempio si propone alle persone di scrivere della loro esperienza. È sempre anche lì un momento molto bello, molto emozionante, perché c'è un momento di silenzio, no? Per cui il terapeuta in quel caso propone un momento di scrittura e si sta zitti per tutta la durata della scrittura. Ecco, possono essere cinque minuti, dieci minuti, anche di più, insomma, ecco, dipendentemente da quanto sono disponibili le persone. È quello che non riesco a fare io ascoltando, di stare zitti. Andiamo alla conclusione e mi sembra utile anche sottolineare, adesso ascoltandosi, mi veniva in mente a proposito del carcere, il potere terapeutico della scrittura. Noi ci pensiamo poco a volte a questa straordinaria capacità che si è dato l'umano nel momento in cui ha inventato la scrittura, no? La scrittura è una pratica antichissima, no? Cioè, dell'umano, eccetera. Noi c'era un poeta, un poeta greco che si chiamava Alessander Panagoulis che diceva mi scrivo da un carcere in Grecia, no? E per inchiostro uso il mio sangue. E attraverso la scrittura riusciva a trasformare questa esperienza di costruzione, di detenzione, attraverso, a, come dire, e ne facevano esperienze di liberazione. Un uomo della fallarci, vero? Certo, certo. E mi viene in mente invece, per andare invece a quelle che sono le nostre pratiche, una volta, ecco, c'era un papà che non riusciva più a vedere questo bambino, no? Questo figlio, perché tutta la questione, dopo che si erano separati, eccetera, eccetera. E lui era disperatissimo per questa cosa, aveva provato in vari modi di cercare di rientrare in contatto, ma il figlio non lo voleva più, insomma. Adesso ve la faccio breve. E quindi io lo invitai a scrivere delle lettere a questo ragazzino che poi un giorno sarebbe stato un uomo, no? E questo riuscì veramente a, come dire, a liberarlo da questa situazione di costruzione dove lui si ritrovava ha detto a suo malgrado, no? Quindi la scrittura è liberante. La cosa interessante era poi, come dire, gliele consegno o non gliele consegno? Gliele darò, gliele potrà dare, gliele potrà dare quando sarà il momento, ecco. Sì, è vero, è un'esperienza, chiaro che può diventare un'esperienza liberatoria, trasformativa, può suscitare un sacco, può suscitare degli apprendimenti, no? Delle intuizioni. È vero, no? È una pratica antichissima che sempre uomini e donne hanno sperimentato, ecco. Diciamo che quello che mi affascina è anche la possibilità, le possibilità che si possono poi concretizzare in questi ambiti, ecco, negli ambiti gruppali, nelle relazioni di aiuto, nelle situazioni in cui le storie anche più dolorose, difficili, possono prendere vita e quindi possono prendere voce e quindi si possono ascoltare. È una cosa che facciamo spesso anche nel training in terapia della famiglia, ad esempio con gli allievi, quindi spesso propongo agli allievi e alle allieve di assaggiare l'esperienza della scrittura raccontando, scrivendo di sé, ad esempio provando a trasformare la propria storia familiare in un romanzo. Abbiamo fatto questo lavoro con tutto il gruppo degli allievi e delle allievi e questo ci ha permesso di entrare concretamente nelle straordinarie, devo dire, no? Non perché uno sia un romanziero, perché la propria famiglia abbia compiuto delle imprese mirabolanti, ma quando lo raccontiamo le vite diventano così, diventano straordinarie e sappiamo bene quanto è cruciale, bello, straordinario, etico e poetico allo stesso tempo creare una cornice, un contesto in cui le storie quotidiane, le tante normalità di cui siamo protagonisti che viviamo ogni giorno diventano invece straordinarie. Io mi sento proprio di ringraziare gli allievi e alle allieve del quarto anno perché ha fatto un lavoro bellissimo e che ci è stato molto utile anche, no? Ovviamente perché poi le storie familiari parlano ovviamente di noi, di ciò che siamo, ciò che siamo diventati, si intrecciano ovviamente con il nostro lavoro, che è la nostra vocazione professionale, eccetera, ecco, però averne scritto in qualche modo ci permette poi, questo è una delle potenzialità ovviamente scontate, ma non ovvie della scrittura, di tornare su quello che si è scritto per costruire riflessività, per ripensare, per rileggere, ecco, per rivederlo, ecco, eccetera, insomma. Io direi che io ringrazio te e noi ringraziamo, ti ringraziamo, ringraziamo chi ci ha ascoltato, i colleghi che si sono connessi, quelli che ascolteranno, mi sembra che sia stata una bella conversazione e anche molto stimolante, sia innanzitutto per leggere il libro e poi, non so, per partecipare a queste esperienze che fa il TMTF o anche in altri contesti e perché no, sperimentare questa proposta, come dire, di manualizzata che tu, come dire, proponi, manualizzata, non manualizzata, ecco, sì. Usando le mani. Usando le mani. Posso salutarvi con una poesia, Enzo? Vai. Eh? E' sempre di Livia Candiani, eh? Questa poetessa meravigliosa, buddista. Siamo nuvole. I nomi complicano la tessitura, ma siamo nuvole. Notturne, mattiniere, dipende. Oltraggiose, spaurite, candide, sprezzanti, cavalieri e cavalcature, bastimenti animali. Siamo pronte a dissolverci con fierezza in quel tutto pacatissimo del cielo ultimo che ci affida il mondo. Siamo nuvole. Cambiamo vita di frequente, lì, sopra il disordine della realtà, il fondo sereno delle cose. Grazie, buona scrittura a tutti, buone storie. Grazie, grazie, grazie a tutti, buona serata. Grazie a tutti, buona serata.